L'indagine prende spunto da una denuncia, da un'indagine che riguardavano abusi sessuali commessi da Costugne nei confronti della figlia, della di lui convivente, in un arco temporale che va da settembre 2014 al febbraio 2015. In quel contesto il compagno di questa donna abusata ha riferito di questa soggezione e che questa ragazza e altre persone avevano nei confronti di questo indagato, in particolare l'attività di santone, di mago, chiamiamola come vogliamo, che costui svolgeva. Da lì, da quello spunto, ovviamente abbiamo con i carabinieri del nucleo investigativo sviluppato le indagini che hanno portato effettivamente a verificare che almeno 25 persone, ma molte più, come abbiamo detto in conferenza stampa, erano cadute nella trappola, credo che si possa dire correttamente, di questo santone e dietro corrisponsioni, insomma, i denaro anche significative, appunto, venivano, diciamo così, sottoposti a trattamenti anti-malocchio, anti-maligno, addirittura concorsi di apprendimento che avvenivano nelle giornate prevalentemente della domenica per 300 euro a persona e che hanno consentito a questo soggetto, che risulta comunque disoccupato, non ha altra attività se non questa, di racimolare, diciamo così, accumulare una certa, diciamo, ricchezza, fra virgolette, nel senso che aveva un appartamento, un'abitazione di Ravenna, un appartamento all'estero, qualche decina di migliaia di euro da parte, per il momento, questi sono gli accertamenti per il momento, quindi direi che il quadro è piuttosto, ricorre, in qualche modo può essere equiparato a quello che altre volte è capitato, cioè il santone, il mago, che libera dal male persone che vivono in condizioni magari di debolezza, come è stato contestato nell'imputazione.